della campagna e degli oltre loro 30 store Questa sera per il gruppo dei Colli Aminei di Trilogs dovremmo avere collegato Francesco Buonasera Francesco, come stai? Ciao Luca, buonasera, è sempre un piacere collegarci con te e gli amici di Radio CRC Targato Italia Grazie Francesco, spero che tu abbia seguito lo scherzo di prima così mentre aspettavi ti sei anche divertito È stato meraviglioso Grazie amico mio, ma adesso a proposito di meraviglioso deludici un poco sulle offerte meravigliose del vostro store che ricordiamo si trova presso via del Pietravalle se ben ricordo Sì, ci troviamo in via Pietravalle ai Colli Aminei e oggi siamo qui per presentarvi i lettori di carte SUMAP senza canoni annuali e sono utili per piccole e medie imprese Colami allora, perci Certo, in modo tale da ricevere pagamenti con carte o con Bancomat e supportano anche la funzione di Apple Pay e Google Pay I lettori sono in promo dal 21 aprile al 9 maggio in particolare ci sono due modelli il modello Air che ha un costo di 20 euro e scaricando l'app subito possiamo visualizzare i pagamenti ricevuti mentre c'è il modello 3G più Wi-Fi che ha un costo di 80 euro ed è indipendente dal cellulare in modo tale da avere anche una SIM 3G già inclusa nel prezzo ricordiamo che non hanno nessun vincolo annuale di canone Senti Francesco, mi ha sempre incuriosito un po' questo lettore anche perché di questi tempi, parliamo sicuramente, la gente non avrà così più scuse per dire oh, sono scissata sola tu non prendi la carta e invece anche noi, anche per esempio che ne so, anche attività impensabili del tipo, che ne so, le donne di strada potrebbero acquistarlo che ne dici? Certo, volendo sì perché funziona in ugual modo Io ti chiedo scusa se ovviamente ogni tanto scherzo con voi ma ormai Casa Expert è diventata la mia famiglia Senti Francesco, e allora ricordiamo per tutti coloro i quali avessero delle piccole, medie ma anche grandi imprese fossero interessate a queste tipologie di lettori sum up come venirlo a prendere? Ricordiamo dove siete precisamente? Noi ci troviamo in via Pietravalle, ai Colle Aminei, vicino alla zona ospedaliera Benissimo, e allora di questi tempi, insomma, se portate qualcuno che magari si è ciaccato un dito, che è stato ciaccato perché gli hanno buttato una pantofola addosso al pronto soccorso approfittate e andate anche dai nostri amici ai Colle Aminei Francesco, io ti ringrazio grazie mille per la tua partecipazione Buona serata, buona serata carissimo Fantastico Francesco, ragazzi